Buonasera a tutti, siete numerosissimi anche oggi. La cosa ci fa molto piacere perché significa che insomma forse avete fiducia nel lavoro che facciamo, speriamo di non deludervi. Stasera inizia il nuovo corso che abbiamo organizzato recentemente come Istituti della Resistenza del Veneto, il titolo come sapete è Strumenti e fonti online per la didattica della storia. Questo primo incontro vedrà come relatore, come nostro ospite graditissimo, che ringraziamo già, David Bidussa, storico, giornalista, saggista. Vi rammento che ci saranno altri tre appuntamenti ma cambierà il giorno, saranno di giovedì, il 25, giovedì 25 febbraio, incontreremo e ascolteremo Paolo Pezzino. Giovedì 4 marzo invece gestiremo noi docenti distaccati l'incontro, mentre giovedì 11 marzo interverranno Marika Tolomelli e Paolo Battifora. Anche l'orario cambierà perché dalla prossima volta l'inizio sarà previsto alle 16. Veniamo all'incontro di oggi, la verità è il risultato di un processo faticoso, un titolo impegnativo e siamo tutti ansiosi di ascoltare il nostro relatore e quello che ci dirà. Se ci sono delle domande, comunicatele attraverso la chat scrivendo a Stefania Bertelli. Due parole sul nostro relatore. David Bidussa, livornese, si definisce storico, sociale delle idee, è stato docente presso l'Università Ebraica di Gerusalemme all'inizio degli anni Ottanta, dall'89 al 2015 direttore della biblioteca della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli di Milano, dopodiché è diventato responsabile dell'attività editoriale e didattica della Fondazione, ha insegnato presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino, coordinatore della biblioteca del portale progettorisorgimento.it, tra i fondatori e coordinatori del progetto di Master in Public History dell'Università Statale di Milano, insomma un'infinità di attività e di impegni, tra questi anche quella di divulgatore e anche di giornalista, ha collaborato con Radio Popolare e poi con quotidiani come l'Unità, il Manifesto, il secolo XIX, e poi con riviste come Linus, Diario, Reset, eccetera. Si è occupato di moltissimi e si occupa di moltissimi argomenti di storia contemporanea, in particolare antisemitismo, movimento operaio e socialista, fascismo, storie della storiografia, moltissimi titoli che si potrebbero ricordare, mi perdonerà il relatore se ne ricordo solamente alcuni, per brevità, oltre il Ghetto con Amos Luzzatti e Gadi Luzzatto-Vochera del 92, addirittura, se non ricordo male, Il mito del bravo italiano del 94, Alle origini dell'antisemitismo moderno, questo è un testo invece più recente con Simon Levi-Sullam del 19, ha curato diversi testi, anche edizioni di opere e di interventi di altre figure importanti della cultura e della storia italiana, per esempio il volume sulla guerra civile, la resistenza a due voci, di Norberto Bobbio e Claudio Pavone, appunto curato da David Bidussa, e poi la raccolta di discorsi più recentemente nel 19, la raccolta di discorsi, articoli e interventi di Benito Mussolini sotto il titolo di me ne frego. La verità è il risultato di un processo faticoso, è il titolo dell'intervento di oggi, adesso sentiremo il relatore che cosa ci dice, certamente siamo in una società in cui si moltiplicano le notizie, e questo proliferare creano pochi problemi e disagi, insomma è sempre più difficile riconoscere le notizie vere dalle cosiddette fake news, e quindi si deve ragionare su questo tema, senz'altro fondamentale, anzi credo che proprio la domanda da cui si partirà è questa, perché oggi dire la verità è essenziale? Si rifletterà credo su satira, sul problema delle false verità, ci si appoggerà alla voce, alle parole di grandi storici come Iluar Caro di Mark Bloch, ma insomma in questa fase appunto in cui il falso vive una stagione particolarmente felice, ci si deve chiedere come mai questo avviene, e David Vidussa ci aiuterà a rispondere. Ce ne parlerà adesso, il tempo che ha a disposizione sono circa tre quarti d'ora, 50 minuti, dopodiché ci sarà lo spazio per alcune domande, alla fine libereremo il nostro relatore, e continuerà la nostra attività con un'attività laboratoriale che proporremo a voi docenti. E quindi volentieri cedo la parola a David Vidussa, che ringrazio ancora. Intanto grazie a voi, buonasera a tutti voi, sia quelli che vedo, sia moltissimi che non vedo. Allora io prima di tutto vi illustro che percorso voglio seguire, e dove voglio arrivare. Lo dico perché io penso che una lezione di storia, qualunque lezione di storia, non sia un giallo, cioè non bisogna scoprire l'assassino alla fine, l'assassino va dichiarato all'inizio, dopodiché uno si prepara, è d'accordo, non è d'accordo, ci pensa, ma sa dove chi sta parlando vuole arrivare. Ok? Perché io penso che sia questo il modo di fare un patto corretto tra voci che si incontrano. Allora, io ho diviso questo intervento in quattro parti, che credo almeno nella prima parte vado alla spiegata, perché sennò vi sembrerà un processo un po' astruso. Allora, la prima parte è sul perché oggi dire la verità è essenziale su qualsiasi partita si voglia giocare per fare chiarezza sulle cose. Lo dico perché uno dei temi è che a lungo, a partire più o meno dal 600, la discussione sulla critica al potere e sulla critica alle cose che un pubblico subisce, aveva tra le sue risorse come potremmo dire culturali, diciamo di strategia della risposta o di tattica della risposta, aveva spesso la satira. Voi potete prendere Defoe, potete prendere Jonathan Swift, potete prendere Voltaire, arrivano fino ai vignettisti degli anni 70 del 900. Negli ultimi 40 anni secondo me la satira è uno strumento che non è più capace di graffiare e criticare o essere un codice capace di sbranare le non verità o la forza della contro-argomentazione. Quella roba lì non è più capace di farla. e nella prima parte vi dirò in formula perché non è più capace di farla e dove c'è il blocco su questa partita. Perché questa partita è importante? Perché la satira negli ultimi tre secoli e mezzo è stato un codice comunicativo fondamentale per costruire contro-informazione, per criticare l'impianto di presunta verità con cui venivano discusse le cose e per smontare l'argomentazione dell'avversario. Per cui secondo me ne discende che se la satira oggi non è più in grado di fare questo mestiere vuol dire che l'unico mestiere che ti è rimasto per poter contrastare quello che ti sembra un discorso falso è proporre un ragionamento in cui il tuo obiettivo è dire la verità. ma per dire la verità allora serve capire come si individuano e come si smontano la costruzione di false notizie o di falsi. Se non si affronta quest'altro nodo qualsiasi cosa si dica anche quando si dice la verità in sé non produrrà nessun effetto. Per cui la seconda e la terza parte appunto io prenderò vi citerò dei testi di Mar Bloch di Carr anzi dell'ordine prima di Carr e poi di Mar Bloch su cui lavorerò e nell'ultima parte mi riprenderò il ragionamento sul tema del falso e sul tema della satira e perché la satira non funziona e perché allora quel discorso in storiografia sul tema della verità è l'unica piattaforma con che possiamo ragionare. Di tutti i testi che citerò nel corso di questa chiacchierata io ho fatto delle scansioni che ho inviato ai curatori che hanno costruito questo corso per cui dopo questa chiacchierata da parte mia voi dovreste ricevere da parte loro tutti i testi che io ho inviato da cui estraggo una serie o di citazioni o di riferimenti nel corso della nostra chiacchierata. Allora cominciamo dalla premessa cioè del perché c'è un problema sulla satira oggi prima questione il punto di partenza lo faccio lo prendo da alcune pagine di Edward Said il saggio si intitola dire la verità sono le lezioni che lui tiene a Londra nel 1993 e l'insieme di questo corpo di lezioni è stato poi edito in italiano in un volume edito da Feltrinelli intitolato appunto dire la verità dice Said il compito dell'intellettuale nella società contemporanea è quello di non come prima ipotesi il suo problema è di non mettere a suo agio il pubblico a cui si rivolge per cui il problema non è essere intelligenti o sprezzanti una categoria che molto spesso nell'intervento pubblico degli ultimi 30 anni ha dato la caratteristica e il tratto dell'intellettuale che si fa voce pubblica in televisione in teatro diciamo così anche alle volte nella politica ma è quello di risultare spiacevoli risultare spiacevoli per Said non significa insultare qualcuno altro aspetto su cui la pratica della comunicazione pubblica ha dato grandissime dimostrazioni negli ultimi 30 anni particolarmente in Italia l'ha data ma nel fatto che un'opinione per essere smontata io ti devo costringere a a proporti un filo di ragionamento e quindi che tu faccia tuo un profilo di ragionamento in cui le risorse per pensare tu non le hai cioè io ti devo dare gli strumenti per cui quel ragionamento smonta il ragionamento a cui ti sei attaccato e ti deve obbligare a pensare se questo processo nell'intervento pubblico dell'intellettuale non avviene vuol dire che l'intellettuale ha fallito la sua missione non vuol dire che di là c'è l'incomprensione del fenomeno vuol dire semplicemente che l'intellettuale ha fallito la sua missione perché la missione dell'intellettuale pubblico è quella di aprire bocca e proporti dei temi e dei profili di ragionamento che non sono di dominio pubblico che non sono diffusi dopodiché possono essere anche sbagliati non vuol dire che è la bocca della verità dell'intellettuale ma vuol dire semplicemente che quello che ti deve dare come risorsa è si potrebbe dire se io stessi nel vecchio meccano da ragazzino è avere anziché 50 pezzi avere 150 pezzi e con che 150 pezzi io posso costruire altre cose alcuni possono essere buoni possono essere come dire utili per costruire altri magari possono essere inutili altri possono essere perfino dannosi ma il problema è che io esco da quell'incontro con una valigia di risorse molto più carica di quella con cui sono entrato e quindi la mia la differenza tra il prima e il dopo non è se io ne so di più che vorrebbe dire che qualcuno che ha ascoltato una cosa la ripete no vuol dire se qualcuno ha delle dotazioni per camminare da solo dopo può verificare se le cose e quelle tecniche gli servono o non gli servono che cosa li fanno capire di più o di diverso ma il primo obiettivo è avere degli strumenti in più non dei dati di verità in più i dati di verità si acquisiscono analizzando non si vanno a comprare al supermercato io devo comprare al supermercato gli strumenti per arrivare a delle possibili verità in più rispetto a quelle che so io mi devo applicare non devo semplicemente comprare primo obiettivo ora perché questo dato è importante perché questo dato in un qualche modo fa parte di un'altra partita molto importante su cui ha richiamato l'attenzione Giorgio Orwell nel 1946 in un saggio che si intitola la distruzione della letteratura Orwell siamo nei mesi in cui lui sta costruendo il laboratorio narrativo che poi darà vita a 1984 e la prima cosa che osserva dentro la distruzione della letteratura Orwell è che all'indomani della seconda guerra mondiale se io devo il confronto con i sistemi di potere forti è l'impossibile è dato da due elementi secondo me con un'intuizione quasi premunitiva di almeno 40 anni sul nostro presente il primo dice la letteratura dei sistemi di potere è una letteratura che invita a piangere o invita l'emozione o la commozione ma non invita a pensare cioè quello che fa l'opera d'arte la narrazione il teatro il romanzo il racconto breve tutto quello che volete diciamo di acculturazione nei sistemi forti ancora non li chiama totalitarismo ma di fatto è di quello che sta parlando in quel saggio George Orwell è farmi commuovere non farmi pensare farmi commuovere e allo stesso tempo una delle cose essenziali dei grandi sistemi di poteri autoritari e totalitari del novecento o della prima metà del novecento è rovesciare il rapporto di forza cosa vuol dire rovesciare il rapporto di forza per Orwell vuol dire questo che se la satira è la capacità di smontare una roba di tenuta vera nel corso dell'età moderna appunto a partire dalla fine del secento appunto con si potrebbe prendere prima Rablè con Gargantua e Pantagruel in maniera più o meno indiretta per arrivare appunto poi invece ai grandi satiri del fine secento inizio settecento inglesi cioè appunto De Foix e Swift per arrivare poi a Voltaire ogni volta la satira era un'arma dal basso verso l'alto i grandi sistemi autoritari e totalitari del novecento hanno usato la satira per continuare a uccidere i loro oppressi voi andate a prendere la satira fascista nazista anche sovietica e totalitaria della periodo degli anni trenta anni cinquanta e voi scoprirete che l'uso dello sberleffo su chi ha perso è fondamentale nella costruzione della forza dei regimi questa è una novità rispetto a modelli autoritari dell'ottocento perché fino per tutto l'ottocento nei modelli autoritari la satira era l'arma di come dire di replica degli sconfitti non era l'arma di uccisione dei potenti l'arma usata per uccidere da parte dei potenti così esco dall'ambiguità della frase quindi perché dico questo perché appunto allora il problema diventa non più se io semplicemente dimostro qual è il codice culturale lo smonto e dimostro le sue contraddizioni che è la macchina appunto della satira se volete del sarcasmo ma questa macchina a partire dal novecento con i totalitarismi viene invece ridotta a derisione la derisione diventa l'uso apparentemente smontante della satira che prima è antipotere da parte di chi ha potere per dominare chi ha già sconfitto e vi faccio una parentesi e poi la chiudo subito è uno dei motivi per cui per stare a nostri giorni Charlie Hebdo è un linguaggio assolutamente come potrei dire fallimentare di critica dei fondamentalismi per cui criticare il fondamentalismo con il modello della derisione di Charlie Hebdo è conforme al codice culturale con cui anche se Charlie Hebdo non appartiene a quel tipo di codice con cui i sistemi totalitari hanno distrutto loro avversari ed è il motivo per cui la risposta dall'altra parte al di là della violenza che viene come risposta è quella di rispondere chiedendo di smettere una critica perché la si subisce come vittime laddove un discorso di codice interno al fondamentalismo quel tipo di critica non lo graffia nemmeno di un centimetro anzi lo rafforza dimostra per cui da questo deriva appunto di nuovo che la satiran con quel codice lì è incapace di graffiare potere anzi lo rafforza potere ora se noi da qui e vi dico l'ultimo vi do una scena che invece riguarda la situazione italiana l'ultimo protagonista che ha usato la satira in funzione antipotere nella storia italiana è avvenuto negli anni settanta del novecento questo signore si chiamava Peppino Impastato Peppino Impastato è uno che ha costruito il discorso contro la mafia attraverso la tecnica della satirala Swift voi andate a prendere i video le vignette le trasmissioni radiofoniche di Peppino Impastato dal radio out ed è un codice assolutamente fantastico da questo punto di vista ma il problema è che non è che semplicemente quel codice non è più possibile perché semplicemente perché qualcuno poi ha ucciso Peppino Impastato perché quell'esito i satiri e i sarcastici che hanno subito violenza fra il seicento e il novecento ce ne sono state un'infinità cioè Peppino Impastato è solamente l'ultimo di una lunga elenco ma il problema è che la risposta a Peppino Impastato non è stata semplicemente ucciderlo è stata anche come dire l'inizio di una codice della lingua politica esistente in Italia in cui la satira o il ridere è diventato un modo è una modalità con cui il potere si faceva simpatico e quindi si toglieva anche quell'arma per criticarlo ed è il motivo per cui oggi in Italia chiunque voglia fare o satira o sarcasmo deve impostarlo con codici completamente diversi rispetto al modello che noi abbiamo avuto per 30 anni e lo deve impostare se tiene a fare un discorso in cui il cui oggetto sia proporre un discorso di verità non semplicemente costruire della commedia allora per noi affrontare il discorso sulla verità una volta che abbiamo verificato che e per me l'abbiamo verificato poi magari forse per molti di voi non è verificato ma magari ne discutiamo che la satira non è più uno strumento per smontare un codice come mi arriva e come io gli rispondo allora il problema diventa come io quali risorse io mi devo dotare per poter senza la satira e senza il sarcasmo smontare quello che appare un discorso persuasivo convincente e vedere come si forma la non verità allora secondo me ci sono due modalità che sono quelle su cui io mi concentrerò nei prossimi 20 minuti circa che credo di avere ancora a disposizione il primo testo da cui vorrei partire è un testo che risale a 60 anni fa si chiama Selezioni sulla storia l'autore si chiama Edward Horace Carr Selezioni sulla storia è un corso che Carr tiene alla London School of Economics dove viene invitato per fare qualcosa di simile tipo le Norton Letchers così come Calvino ha fatto le lezioni sulla letteratura o Umberto Eco ha fatto sei percorsi nei sentieri narrativi all'interno di questo corso sulla storia Carr tiene una lezione uno dei temi dei sei temi che tocca è il problema della causa in storia e a un certo punto il tema che Carr ha in testa è come noi ragioniamo e come riconosciamo cause in storia allora il primo tema su cui Carr lavora è che è questo lui dice in storia negli eventi che noi di cui non siamo partecipi o a cui noi che guardiamo magari anche se non siamo partecipi diretti ma ne siamo in qualche modo coesistenti o partecipi indiretti ogni evento ha un'infinità enorme di cause non ne ha una sola ma quando noi dobbiamo comunicare o quando noi accogliamo una descrizione di eventi con le sue cause noi di solito o ne scegliamo una o individuiamo quella che riteniamo essere la causa maggiore o che diciamo che dipende da quella causa magari ce ne possono essere anche altri ma dipende da quella causa ora a mio modo di vedere il tema potrebbe essere per esempio voi prendete dice dice Carr se voi andate nel nel come Kafka scrive il processo la storia del processo è c'è una causa ma non la colgo mai non so mai qual è il motivo per cui se io dovessi ragionare in prima persona il protagonista del processo si trova in quel corso non se ne rende nemmeno mai conto fino alla fine voi tutto il testo del processo è un continuo interrogarsi del protagonista per sapere perché gli sta succedendo quello che gli sta succedendo tutto il testo nessuno gli dà una spiegazione nemmeno nell'ultima pagina quando lui sta per essere ucciso l'ultima lui si rivolge eventualmente a chi potrebbe essere intorno ai palazzi dove viene ucciso aspettando che qualcuno gli dica perché lui si trova lì nessuno glielo dirà e quindi noi con lui chiuderemo il processo senza assolutamente sapere perché lui è stato ucciso o perché qualcuno l'ha incolpato non lo sappiamo tutta la costruzione molto coerente è assolutamente impeccabile dal punto di vista della conseguenzialità ma il fatto è che non c'è raccontata dichiarata e dunque esposta una causa prima non c'è allora il fatto che non ci sia pone un problema di come potrei dire di come si svolgono i meccanismi di costruzione delle cause e quindi di come io do ragione di quello che sto vedendo dei percorsi di pertinenza anche tra le cose che sono come dire disposto a prendere in carica a riconoscere ma di cui nessuno mi dà elementi per capire allora dice a un certo punto osserva car che io se voglio capire qualcosa negli eventi io devo individuare una causa vedere l'effetto che è connesso con quella causa la quale mi fornerà una causa di un comportamento o meglio io tutta l'analisi che io faccio di eventi in storia non è finalizzata di solito a svelare un segreto ma è fatta in modo per cui io da quell'evento ricostruito imparo qualcosa imparo una connessione tra causa effetto imparo una connessione tra fare un atto e quello che li può seguire o quello come dire se mi trovo un bivio cosa devo scegliere diciamo in qualche modo ricavo delle leggi di comportamento di giudizio di analisi ma mi danno delle regole allora se il compito della ricostruzione storica non è semplicemente ricostruire un dettaglio o aver la curiosità puramente anedottica di qualcosa del passato ma capire il meccanismo quello delle cause è sicuramente un tema di grandissima rilevanza che mi fa capire al limite come io posso agire in un'altra condizione scegliere fare per cui dice cara io quella cosa lì mi consente di dare un ordine anche alle cose così come sono avvenute ora il secondo passaggio dice cara apparentemente questa cosa mi dovrebbe essere abbastanza chiara ma il problema è dice che se io inverto una situazione cioè non prendo semplicemente l'ordine conseguenziale delle cose da cui ho una tabella ma chiamiamola così di comportamenti e parto dall'effetto finale se io ho capito il primo meccanismo io dovrei dire benissimo io parto dall'effetto finale e lentamente risalgo diciamo così alla sorgente delle cose dove dovrei trovare delle cause che mi dicono esattamente perché è andata in quel modo e lui dice guardate che non è così perché questo passaggio inverso illustra l'estrema problematicità di ragionare in questo modo per cui non mi basta andare a guardare come dire quello che io ho in mano alla fine per tornare verso l'inizio perché il problema è dove io voglio andare e cioè l'analisi retrocedendo da ciò che io vedo non mi fa capire l'origine delle cose dice car ma molto spesso mi porta a accogliere la causa che implicitamente io avevo all'inizio già deciso di scegliere e quindi tutto il processo che io ho fatto solo apparentemente è un processo conoscitivo in realtà è un processo deliberativo che io ho già costruito a priori e per far questo car si serve di un ragionamento molto semplice di cui ora io vi prenderò dei passi e vedrete cosa significa ricostruire il ragionamento sulle cause allora dice a un certo punto car ci facciamo un esempio si trova nel pezzo che vi arriverà si trova a pagina 113 114 ve lo leggo sono poche righe ma secondo me sono molto significative dice così Jones tornando da una festa durante la quale ha ingerito una quantità di alcol maggiore del solito su una macchina con i freni in cattive condizioni giunto a una svolta dove la visibilità è notoriamente scarsa investe e uccide Robinson che stava attraversando la strada per comprare delle sigarette al negozio dell'angolo cessata la confusione ci richiama al commissariato di polizia più vicino per esempio per indagare sulle cause dell'incidente e quindi la domanda che si fa car è perché è morto Robinson e dovrì che qui lui dice guardate dipende perché se io voglio io voglio sostenere che Robinson è morto perché fumava sigarette dirò che se Robinson stava a casa sua nessuno lo investiva e quindi non sarebbe morto se io voglio fare una campagna contro il comune per l'amministrazione municipale per dire che Robinson è morto perché in quel punto l'illuminazione della strada era scarsa dirò appunto che l'illuminazione della strada era scarsa e la motivazione è perché non si vede molto le persone e dunque lui è morto per incuria dell'amministrazione se io voglio dire che non bisogna bere prima di mettersi a guidare dirò che Robinson è morto perché Johnson aveva bevuto e io posso andare avanti con infinite cose che sono tutte quelle delle componenti della scena che lui ha descritto e il fatto è dice caro che lì dentro la nostra causa individuata nessuna di queste cause in sé per sé è meno causa delle altre però dice una cosa molto interessante dice qual è la nostra propensione all'idea di causa cioè dice qual è la nostra preoccupazione o qual è il nostro obiettivo principale perché quell'esempio ci è essenziale perché la ricostruzione di quella scena ci è essenziale e che cosa vogliamo dimostrare non che cosa ci dimostra quella scena cosa vogliamo dimostrare noi allora vuol dire che quando noi ci troviamo di fronte alla costruzione e alla come dire comunicazione di un ordine di fatti che ci vengono dati in un ordine temporale e di azione degli attori che compongono quella scena la prima domanda ad analisti che ci dobbiamo fare è in quale ordine gerarchico di cause mi è stata raccontata questa scena non cosa mi racconta questa scena in quale ordine di cause mi è stata raccontata questa scena che vuol dire come mi è stato prodotto questo testo quale scelta di priorità ha fatto chi me lo racconta e la seconda domanda è perché ha fatto quella scelta di priorità in base a che cosa e in base a quale regolatore di cause gli è più importante stabilire quell'ordine perché quell'ordine di cause che pur mi racconta esattamente quello che è successo ma perché ma per raccontarmi il vero non gli basta semplicemente raccontarmi quello che mi è successo perché quello che è successo a me arriva con un ordine di cause che rendono evidente quello che è successo non mi dicono semplicemente uno andava in macchina uno ha attraversato la strada ed è morto perché questo è quello che è la scena secca mi dà un ordine di cause e a seconda di come io scelgo quelle cause o a seconda di come mi vengono proposte io accolgo la storia che mi viene detta quindi solo apparentemente io ho la verità io ho semplicemente come dire il dato di fatto ma il dato di fatto non è la verità e vi dico anche perché non è la verità ve lo dico da un altro punto di vista qui non l'ho passato questo testo perché ci ho pensato non più tardi due minuti fa ecco quindi questo testo magari ve lo passo lo recupero e ve lo passo 50 anni fa circa Claudio Pavone ha scritto ha scritto un testo secondo me fantastico intitolato ma è proprio vero che l'archivio di un istituto racconta la sua storia sono quattro pagine in tutto è uscito sulla rassegna degli archivi di stato del 1970 e Claudio Pavone distingue tra quello che lo chiama il certo e il vero e lui dice la gran parte degli archivisti quando vanno a scavare dentro un archivio pensano pensano di trovare il vero e pensano di trovare il vero perché i documenti che trovano gli raccontano come è andata una cosa appunto come quando Cardice io sto descrivendo il fatto che il tizio è morto ma il problema è dice Pavone che i documenti che io trovo devono tenere conto del fatto che quello che io vado dentro quello che io vado a prendere dentro un archivio non è esattamente tutti i documenti che sono arrivati a quell'archivio è quello che mi viene restituito successivamente a un ordinamento fatto che di solito è il risultato di uno scarto del fatto che non tutti i documenti sono arrivati del fatto che qualcuno gli ha dato un ordine del fatto che qualcuno gli ha messo delle parole chiave con cui andarle a vedere e quindi io al massimo posso non basandomi esclusivamente e solo su quelle fonti archivistiche che io trovo in quella serie archivistica avere un'idea di ciò che per certo io ho davanti ma la differenza tra certo e vero è ancora molto consistente e io per avere il vero delle notizie notizie che ricavo da quel corpo documentale che ho trovato dentro un archivio devo farle incontrare e incrociare e confrontare con altre fonti archivistiche tali per cui solamente da quel confronto io avrò forse un'approssimazione al vero e avrò una dose minima che posso stabilire se quella soglia minima mi è sufficiente per assumerla come è vero di qualcosa che io chiamo il certo allora quando noi abbiamo di fronte le notizie che scopriamo successivamente che chissà se sono vere o non vere o che comunque sono dubitabili sulla loro verità il primo dato che noi dobbiamo sapere è quante altre informazioni mi arrivano e in quale ordine di narrazione mi arrivano quelle notizie perché se no noi assumiamo una cosa semplicemente appunto per sentito dire noi ripeteremo un ordine di descrizione su cui non abbiamo nessuna verifica avremo semplicemente fra virgolette scusate il termine comprato una versione dei fatti ma non abbiamo una versione dei fatti l'abbiamo semplicemente comprata che l'abbiamo comprata magari perché la voce da cui l'abbiamo presa è quella di cui ci fidiamo più di altri magari l'abbiamo comprata perché c'è più simpatica magari l'abbiamo comprata perché c'è più vicina perché ci aiuti ci fidiamo di più con quello che volete ma quella voce nel suo ordine è tutto da dimostrare che ci dica il vero è tutto da dimostrare che ci dica il vero allora se questa operazione indubbiamente è un'operazione che richiede tempo che richiede cioè dedicarci del tempo per fare una cosa del genere però diciamo che quanto meno aiuta sapere che forse non tutte le cose che noi ascoltiamo dobbiamo prenderle come oro colazzo ok oppure non sempre magari questo è un atteggiamento che abbiamo spontaneo ma a mio modo di vedere negli ultimi cinque anni se io sto nella vita quotidiana del nostro paese sono molto incerto per sapere se questo sia un costume diffuso o preno secondo me è poco diffuso e dunque sapere che qual è chiamiamolo così il montaggio di quello che noi pensiamo sia un testo senza montaggio che sia semplicemente la replica dell'esistente bene forse ci può aiutare a ragionare e a prendere con maggior cautela carico di cose che tendenzialmente siamo portati a ritenere vere perché appunto dipende non semplicemente se in sé hanno delle verità perché la verità non è mai una versione è l'insieme di componenti che mi fanno la versione e quindi è quelle componenti che devo andare a guardare ma soprattutto devo andare a guardare il montaggio con cui faccio delle componenti io posso avere infiniti racconti se metto insieme delle cose con pochissimi elementi non ho una sola versione dei fatti mettendo insieme gli stessi elementi sono infinite dipende da quale variabile io prendo in considerazione vi do un dato che io so che magari potrà essere molto discutibile fuori da questa questione sulla verità o non verità vi apro la parentesi e ve la chiudo perché ve la propongo semplicemente non come argomento di discussione ma per il tipo di domande che io mi faccio quindi lo dovete prendere come un mio vizio ok una delle cose che mi fanno estremamente dubitare mi hanno fatto dubitare da sempre vuol dire dal 1975 io sono nato nel 55 avevo 20 anni al primo anno dell'università quando il mio professore mi ha messo in mano per la prima volta uno dei volumi della biografia di Mussolini di Lorenzo De Felice io ho sempre avuto il sospetto che la costante citazione abbondante di testi dai documenti d'archeo centrale dello Stato non fosse sufficiente alla ricostruzione della scena mai l'ho pensato che quella roba mi raccontasse esattamente com'era la scena per due motivi l'ho pensato primo perché io non avevo altri documenti accanto a quelli che mi avevano presentati come un'altra versione dei fatti due perché e questo era noto già nel 1975 cioè quindi non è che l'abbiamo scoperto dopo la cosiddetta segreteria particolare del Duce su cui gran parte dei documenti vengono usati per costruire quella biografia è un insieme di carte scelte dalla componenti della segreteria del Duce con cui si interpretano voleri e scelte politiche del Duce su cui si costruiscono dossier quindi considerare quelle carte come se fossero un accumulo naturale di carte è strutturalmente storiograficamente errato e usarle come se fossero semplicemente la riprova del vero è sbagliato il che non vuol dire che diciamo così in grosso 7000 pagine di biografia si andrà a buttarsi via ma vuol dire che una cosa è la mole impressionante di documentazione che viene presentata e un'altra cosa è il modello di costruzione dell'evento storico così come viene presentato e che non mi basta la quantità di documenti che mi vengono proposti perché io lo ritenga come inoppugnabilmente vero tutt'altro perché non mi basta che qualcuno copia i documenti per raccontarmi come la storia è andata di nuovo perché non mi basta che qualcuno mi dia come dire con un cibo precotto una versione dei fatti io voglio avere gli elementi uno storico serio è quello che mi fornisce gli elementi per cui mi racconta come lui è arrivato a quella conclusione non mi vende lo storytelling di una roba perché quello sono capaci tutti mi basta accendere la televisione gli storytelling ce l'ho tutti i giorni e non ho nessuna capacità di interlocuire con quell'oggetto ho semplicemente la possibilità di riceverlo passivamente allora secondo me Carr quando pone il problema dell'ordine delle cause e della scelta delle cause da parte di chi ricostruisce scena della storia fa esattamente un'operazione in cui mette in guardia da quel tipo di scrittura della storia il cui primo dato non è io ho visto centinaia di documenti e quindi è andata così no tu hai visto dei documenti l'hai scelti l'hai ordinata e dunque mi racconti com'è andata secondo te questo è quello che succede questa roba vale ancora di più per la quantità enorme di notizie che noi riceviamo tutti i giorni semplicemente accendendo una radio una televisione o andando su un pc su un qualsiasi piattaforma che mi racconta storia o che mi fa vedere pezzi di film registrati chissà dove montati chissà come di cui non so assolutamente niente di come vengono montati perché lì assolutamente lì davvero non ho la possibilità da qui dal remoto di vedere cosa io levo cosa mi viene proposto e quindi quello che io ricavo da quel documento che io vedo è diciamo così a volerli bene una versione dei fatti non dico sia falsa diciamo che sia una versione dei fatti ma non è il vero perché? perché appunto devi domandarti di come come ti arriva quel piatto sul tavolo come è stato cucinato da quali ingredienti è partito e come e quindi quale gusto alla fine ti propone se noi questa domanda non ce la facciamo è come se noi fossimo disposti a mangiare qualsiasi roba basta che semplicemente ci faccia passare la fame ma non è detto che una volta ci ha fatto passare la fame come ti sta nutriendo sia un'alimentazione sana semplicemente non hai fame è tutto da dimostrare il resto allora il secondo il passaggio che mi interessa da questo punto di vista io vi prendo vi prendo un dato che riguarda due testi di Marvloch su cui mi interessa ragionare diciamo così il primo è un testo che Marvloch tiene una lezione che lui tiene ai suoi allievi dell'ultimo anno di liceo che forse potrebbe anche essere un testo su cui ragionare con i vostri allievi si intitola critica storica critica della testimonianza e critica storica il tema qual è? dice Carr guardate noi di fatti ne possiamo avere tantissimi ma quella quei fatti non ci dicono assolutamente se io ho molte opinioni e mi basta semplicemente metterle insieme perché io abbia una versione dei fatti perché io abbia una versione dei fatti devo ponderare i fatti quindi mi basta semplicemente mi prendo l'elemento strutturale di quella riflessione è una riflessione che lui fa siamo nel 1914 quando fa questa lezione il care Bloch in quel momento è un giovane professore ha 28 anni quindi non è ancora lo storico che poi tutti noi conosciamo diciamo questo è uno dei suoi primi scritti tra l'altro dice sostanzialmente benissimo io posso diciamo così posso sentire molte opinioni ma non dipenderà non sceglierò il vero semplicemente facendo un elenco numerico delle opinioni magari quell'elenco numerico delle opinioni se io ho una lista di opinioni di un certo tipo molto alta e una pila molto bassa e magari gran parte del vero sta nella pila più bassa che non quella più alta la pila più alta sarà interessante di analizzare esattamente come analisi del senso comune o come se non perché in sé sia falsa ma perché mi dice tantissime cose del modo di ragionare collettivo per esempio quindi i dati che io ricavo da quella somma di cose non sono da buttarsi via non sono da scartare ma non mi devono dire non mi devono far scegliere o mi devono far propendere laddove vado a collocare il vero io devo anzi fare in modo che quante più cose siano quante più elementi sono discutibili dentro una versione che mi viene fornita e quanto più evidente che quella versione è discutibile tanto più quella versione gliel'avrò per cara non la devo buttare via perché apparentemente sembra una contraddizione ma perché dice Bloch noi dobbiamo diffidare quando abbiamo tante testimonianze che ci dicono una cosa piuttosto che un'altra se queste testimonianze come si formano queste testimonianze dobbiamo prenderli uno a uno e capire come questi hanno formato la loro opinione perché spesso scopriremo che la loro opinione si è formata perché si sono ascoltati l'uno all'altro perché quello che noi ascolteremo non sarà tante opinioni che sono uguali tra di loro ma sarà tante voci che hanno fra virgolette si sono in un tempo più o meno lungo ma sostanzialmente stretto dal punto di vista dell'unità temporale si sono convinte e hanno fatto conversione verso una versione e io quindi la prima preoccupazione sarà capire come quel processo è avvenuto perché quel tipo di opinione è diventata di maggioranza perché un'altra opinione è stata scartata con quale prove è stata scartata con quali sensibilità è stata scartata perché appunto di nuovo quella cosa da solo facendo la somma di opinioni tra loro diverse non ci darà il vero ci darà semplicemente quello che è l'elemento su cui molti sono d'accordo ma non è detto che quello sull'elemento su cui molti sono d'accordo sia la verità è ancora questo e ancora anche questo da dimostrare non solo questo da dimostrare ma dirà ancora Bloch perché si formi un'opinione e come si forma un'opinione anche quello è un argomento su cui non dobbiamo stare attenti e per far questo lui siamo nel 1921 scrive un saggio secondo me bellissimo tra l'altro lo storico e le false notizie di guerra che muove da un'altra cosa lui dice guardate durante la prima guerra mondiale lui parla della guerra di trincea le persone avevano la convinzione che qualcosa stesse accadendo in un certo modo dove si fondava la loro convinzione non perché erano sulla scena perché quella scena magari non l'avevano vista ma la loro opinione si era formata nelle retrovie della scena quando a Mensa lungo i corridoi di scorrimento delle trincee si incrociavano e ciascuno raccontava quello che aveva ascoltato o visto da un'altra parte lentamente la somma di queste conversazioni che a loro volta venivano ripetute in altre conversazioni costruivano il vero o costruivano la percezione che le cose che stavano accadendo fossero quel tipo di versione e quindi la forza di quell'opinione diventava potente di nuovo non perché tu avessi visto la scena ma perché molte voci lentamente per approssimazione di ripetizione di una scena diventavano una sola scena prototipo guardate tutti i racconti che vanno dall'autostoppista scomparso alle persone che appaiono e scompaiono di notte cioè tutti quelli che sono fra virgolette i racconti fantastici che hanno popolato i nostri immaginari degli ultimi vent'anni hanno sostanzialmente questo tipo di dinamica c'è qualcuno che racconta un pezzo qualcun altro che glielo mette accanto un altro pezzo pertinente un altro li mette accanto una scena che ha son modo pertinente e voi avete una versione di fatti di un fatto che non c'è ma che diventa plausibile e siccome è plausibile ma non c'è un testimone vero autentico che possa dire io l'ho visto accaduto a b c d in questo ordine alla fine diventa vero diventa vero e la sua diffusione diventano la circolazione delle false notizie questo per dire che per dire sostanzialmente di nuovo che tu magari nel nel settecento uno come Swift ci avrebbe costruito una fiaba e ci avrebbe costruito in qualche modo un racconto anche molto divertente ma tu nel novecento questa cosa già da blocco non la potevi più fare dovevi servirti di altre forme per smontare quel passaggio dove conta tantissimo le condizioni psicologiche di vita quotidiana che ti hai guardate mi do un esempio banale perché la prima guerra mondiale è il vero spartiacque tra diciamo così della contemporaneità nel tempo della contemporaneità potrei prendervi una scena che ancora fa delle trincee il vero luogo di identificazione di passaggio dirvi questo se io penso alla guerra di tipo ottocentesco la guerra di tipo ottocentesco è la guerra duello è quella cosa per cui se volete in maniera o nobile o tragica nobile vuol dire il conflitto di spada classica fino al quattrocento cinquecento seicento anche settecento diciamo e poi hai le battaglie pazze per cui l'assalto al balaclava è una battaglia pazza dove se cento persone vengono mandate a morire semplicemente perché fanno ancora la guerra duello si comportano con un tipo di arma che non è più la spada ancora con le tecniche della guerra duello cioè quindi con il mettere il proprio corpo in prima linea la prima guerra mondiale è il momento in cui il corpo in prima linea per certi aspetti fa un passo arretrato e dove tu per uccidere un nemico stai in un posto interrato anche lui in un posto interrato non lo vedi e tenti di colpirla ok se volete quelli che poi diventeranno gli arditi sono l'ultima forma di guerra duello da ottocento diciamo lasciamo perdere tutta la retorica su il gusto dell'uccidere della violenza ve la metto da una parte però se dovessi analizzarlo dal punto di vista della tecnica di fare il duello di fare il conflitto col nemico in un qualche modo gli ardigli sono l'ultima forma che ancora sta nel modello balaclava ok ma cosa succede se voi mettete migliaia di persone in una fossa per quattro anni a riflettere come dire a fare atti che non sanno assolutamente che effetto hanno che i cui effetti gli viene raccontato da qualcun altro che non è lì e che ha il compito semplicemente di tenerli ancora vivi lì per cui per tenerli lì e gli deve raccontare delle robe fantastiche cioè perché li deve motivare a star lì perché se no quelli lì non ci staranno perché devono soffrire il freddo la fame non vedere mai un nemico e pensare che comunque sono invincibili ti prende la depressione allora la gran parte del racconto lungo la tricea è anche un modo per raccontare quanto si è capace di resistere guardate è una tecnica che fa parte della vita nostra tutti i giorni noi raccontiamo a chiunque conosciamo delle cose che non sempre sono esattamente il vero così come sono andate ma li dobbiamo raccontare che quelle cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte con una forza di carattere con una costanza con un'insistenza che era data dal fatto che credevamo in un obiettivo magari non avevamo nessun riscontro però ci dava motivazione a esserci ora ci sono poi possono essere delle piccole bugie delle piccole cambiamenti rispetto a come sono andate le cose e questo cambia poco però poi provate a moltiplicare l'effetto diciamo a mettere a pensarlo come migliaia di persone che sono lì che il destino è fra virgolette lo scontro bellico e voi avrete un'altra macchina che dovrete smontare non vi basterà semplicemente più la tecnica dello smontaggio che proponeva la car e cioè o che se volete io ho bisogno del rapporto fra certo e vero io dovrò a questo punto capire come si è costruita la scena dovrò fare una verifica su quanti altri elementi come dire di come se fossimo in qualche modo un commissario di polizia cioè riuscire a smontare il racconto e rimontarlo e vedere se ancora sta in piedi oppure no o dove fa buchi occorre un'enorme pazienza quindi occorre tempo voi capite che non sempre abbiamo né tempo né pazienza e per cui la possibilità di smontaggio diventa molto difficile allora come fai a smontarlo allora per smontarlo secondo me l'unica l'unica arma che noi abbiamo oggi per smontare versioni di fatti è avere come dire un gusto di scavo nelle componenti nei fatti che lentamente smontano la costruzione del racconto cioè che smontano se volete e come dire scompongono quello che Propp nella morfologia della fiava chiamava le funzioni della fiava nel racconto cioè vado a vedere i tanti pezzi di costruzione per questo che oggi fare la come dire l'analisi dei fatti storici ci serve la critica letteraria ci serve la semiotica ci serve la teoria della letteratura perché io penso che la morfologia della fiava sia un ottimo testo per capire come si costruisce un racconto in termini di conseguenza di passaggi in termini di coerenza di scelta in termini se volete anche del fatto che un racconto non è lineare lo si capisce nella sua linearità se io parto dalla fine e lentamente andando indietro vado a ricostruire tutti i momenti di costruzione che sono sempre un bibio cioè un bibio sceglierò una cosa piuttosto che un'altra quella successione mi sembrerà conseguente coerente con la sua premessa però avrà una premessa di scelta perché nelle fiabe succede sempre così benissimo allora una delle cose secondo me che oggi gran parte della didattica della storia è soprattutto un'analisi delle metodologie di costruzione di racconto questa roba di solito non l'hanno fatta gli storici l'hanno fatta i teorici della letteratura l'hanno fatta i semiologi l'hanno fatta alcune scuole fondamentali di teoria della narrativa dalla scuola di Tartu appunto ai funzionalisti appunto a prop e a tutti i primi linguisti cioè vuole dire è un tipo di risorsa secondo me su cui noi dobbiamo molto imparare da certo punto di vista vi do penso che ho finito il mio tempo vero? ho finito il mio tempo benissimo vi dico solamente una cosa poi magari se volete può esserci anche tantissime altre occasioni io non sono nato così vi spiego perché questa roba mi intriga tutte le volte e perché per me è fondamentale tanti anni fa per tanti anni fa si intende sei anni fa a un certo punto era l'ultima fase della mia attività di lavoro in Fondazione Fertinelli come come dire come impiegato della Fondazione Fertinelli mettiamola così a un certo punto c'è arrivato un l'ipotesi di del finanziamento per il centenario della Prima Guerra Mondiale e se voi andate a prendere tutti i progetti che sono girati in Europa sul centenario della Prima Guerra Mondiale ci sono stati fatti dei progetti fantastici dal punto di vista del modello costruttivo cioè per esempio in Inghilterra hanno costruito una cosa per cui hanno inventato una pagina Facebook di un militare che era in trincea e che quindi raccontava la storia stando come se noi oggi un amico ci raccontasse un viaggio al Polo Nord attraverso Facebook fino a che a un certo punto quella voce non manda più messaggi perché evidentemente muore e tutti allora cominciano a dire ereditiamo questa pagina ricostruiamola manteniamo le fotografie costruiamo dei racconti così come spesso capita tra amici che improvvisamente o scompaiono perché muoiono o perché improvvisamente decidono che si assentano e che non vogliono più parlare con nessuno oppure c'erano altre attività in Francia dove era fondamentale l'analisi dei luoghi questo perché gran parte degli storici francesi appunto che hanno lavorato sui luoghi di memoria e quindi tutti collegati con Pier Norà costruivano l'analisi della storia della prima guerra mondiale attraverso i luoghi fra virgolette di memoria collettivi con cui si era discusso e costruita identità collettiva nazionale nel corso del novecento e quindi fare la storia della prima guerra mondiale era fare una storia diciamo in qualche modo di un album di fotografie quando la fondazione Feltrinale a noi ci è arrivata questa roba nel primo ragionamento che ci siamo fatti era simile a questo tema della fine della guerra duello era come te immaginavi guerra e era tu per cui ci siamo detti se io vado a un ragazzino che oggi ha dieci anni quindici anni eravamo nel 2015 e gli racconto la guerra e gli dico parlami te cosa pensi che sia la guerra ora ok noi ci siamo detti la maggior parte di questi ragazzi quindicenni alla fine se devi immaginare la guerra se la racconta uno degli come dire degli oggetti che raccontano la guerra nel ventunesimo secolo è il drone e cos'è il drone? il drone è un aereo che non è guidato da nessuno cioè in cui fisicamente dentro c'è un pilota che è invisibile e che va a colpire un nemico che io fisicamente stando dall'altra parte del mondo non sto vedendo non ce l'ho davanti e ci siamo detti qual è ancora ragionando come se fosse un documento d'archivio qual è l'urtext di questa fotografia? noi siamo detti secondo noi l'urtext cioè l'immagine iconica generativa che sta all'origine di questa fotografia è il soldato dentro la trincea che non alza mai la sua testa oltre la trincea perché se no è un uomo morto e il suo problema è non sapere se il nemico dall'altra parte l'ha ucciso oppure no ma è prima ancora di sapere se l'ha ucciso o no è immaginarselo è costruirsi un'immagine di qualcuno che non ha mai visto e che quasi sicuramente mai vedrà perché se per caso fisicamente lo vede forse lui è un uomo morto e quindi nemmeno c'ha voglia di vederlo però quella figura per lui è ossessionante è totalmente fisicamente presente nella sua testa 24 ore su 24 regola il suo ritmo di vita se volete costruisce i suoi sogni perché alla fine Leo Spitzer quando fa l'analisi delle lettere dei soldati della prima guerra mondiale non fa altro che analizzare fra virgolette immagini in quelle lettere lingue e parole incomprensibili ci siamo detti come un vignettista racconterebbe tutto questo come si costruisce letteratura che fa in modo che questa storia sia raccontabile per cui i documenti storici di Fondazione Felclinelli e tutta la parte se volete di vignette di satira di racconto delle notizie di lettere dalla trincea servivano in qualche modo per raccontare una modalità del vissuto della guerra che contemporaneamente era il vissuto di quel momento ma era anche il vissuto di un secolo prima della generazione dei miei nonni e forse dei vostri allievi dei loro bisnonni o trisnonni ma che comunque fa parte invento sicuramente fa parte della loro storia non è che sia molto lontana dalla loro storia allora se raccontata con quel tipo di tecnica forse quella vicenda ci dice qualcosa ci dice anche come quella storia può essere raccontata appunto con quale tecnica la possiamo raccontare con quale scavo tra vero sentito emozionale possiamo vederla cosa ci può suggerire quanto immaginario ci sta dentro quanto senso di non avvenuto ma in realtà di immaginato ci sta che non è solo appunto un tema della nostra quotidianità di ora forse ci è di aiuto anche guardare un evento anche lontano nel tempo da noi come se fosse generativo di quella storia e forse ci dice anche di più di come noi l'abbiamo raccontato di cosa ci siamo accontentati nel raccontare i didati che ci arrivavano quanti elementi dobbiamo mettere in discussione essenzialmente come dire non per avere il gusto del poliziotto o del commissario di polizia che deve ricostruire la scena vera del delitto ma semplicemente per avere il gusto di dire ci provo a capirci qualcosa di più mi servono moltissime altre cose che non sono semplicemente avevo ragione avevo torto ma sono la curiosità di scoprirne alcune ecco questo secondo me è il racconto di storia mi fermo qua grazie 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 professor Vidussa credo che tutti l'abbiamo ascoltato molto con molto piacere chiedo ai colleghi se ci sono delle delle domande sì ci sono un paio di domande le leggo un attimo che sono un po' disorientata da questo a questa lezione del professore devo riprendermi allora Lara Giuliani fa due domande che vanno verso le due questioni che sono state poste dal professor Vidussa allora la prima riguarda la satira Petrolini può ancora essere considerato satira la seconda invece è legata invece alla seconda questione l'arbitrarietà algoritmica dei motori di ricerca collegati alle fonti online fino a che punto può davvero offrire una possibilità di confronto ingenuo ma impegnato tra i documenti domande delle 100 pistole volete che risponda subito o ditemi voi no deve rimettere l'audio non ci sono non ci sono altre domande per ora quindi accidenti lo azzerati allora cominciamo da Petrolini allora io penso che Petrolini sia satira però dipende anche come dire a quale compito noi affidiamo alla satira vi faccio un esempio Pascarella le poesie di Pascarella sono satira ci sono anche delle vignette caustiche che sono satira di nuovo come dire dipende io penso che la satira sia non un prodotto in sé dipende da quale come dire componenti usa o propone sapendo quale reazione vuol generare mi spiego meglio cosa voglio dire la satira è un linguaggio che deve evitare la supponenza cioè deve essere deve fornire un prodotto immediato fruibile tendenzialmente non è selettivo e quindi in un qualche modo mi deve dare degli elementi anche molto generali perché qualcuno o la maggioranza o la maggior parte delle persone che scelgono quel tipo di codice o di esperienza o di spettacolo o di film quel che volete diciamo quel tipo di prodotto la capiscano una vi capite bene che una satira che risulta incomprensibile ha fallito il suo obiettivo per cui il primo dato è che la satira deve esprimersi con un linguaggio comprensibile deve lavorare su un sentimento che è sufficientemente sparso o condiviso cioè non può essere delitto il sarcasmo è delitto ma la satira non deve essere delitto il sarcasmo presume che tu abbia molti elementi intellettuali per capire in maniera molto fine il meccanismo interno la satira è più diretta dopodiché però deve essere anche in grado di per esempio deve essere in grado di usare il linguaggio del proprio tempo di dimostrarne i limiti magari facendoci ridere e facendoci ridere noi successivamente non riusciremo più a pronunciare la stessa parola senza ridere questo sarà già un primo effetto della forza della satira quello che prima pensavamo fosse un argomento solido diventa un argomento discutibile non vuol dire che mi ha raccontato la verità la satira ma vuol dire che ha messo ha bucato la gomma diciamo così ha fatto uscire aria questo è importante non necessariamente deve essere un discorso organico la satira ma è sufficiente che come dire mi dimostri che il meccanismo di dimostrazione che il discorso che viene sottoposto a satira mi voleva proporre non è così lineare fa dei salti non spiega delle cose gli chiede conto lì possono esserci tanti linguaggi una cosa è stare su un palcoscenico come Petrolini una cosa è scrivere come Pascarella una cosa è quale Petrolini può far ridere anche stando zitto semplicemente con della mimica Pascarella non può far ridere stando zitto deve per forza scrivere una cosa che mi fa pensare in maniera la scoperta dell'America è una grande satira di come dire di come te ti immagini che sia il selvaggio anche nell'ironia appunto di quando Colombo scende e gli domanda a quello chi sei e quello risponde cosa è essere il selvaggio appunto cioè il punto è come ti dimostra quale sono quelli che tu dai come senso comune quanto sia invece un luogo comune o quanto sia come dire un non essersi fatto delle domande che quello è già un obiettivo della satira vuol dire che ti dà la verità vuol dire che ti mette in discussione quello che è ritenuto fino a quel momento che fosse non solamente vero ma certo è una delle cose vi voglio dire che non sempre io voglio delegare ai comici la carta di liberarmi da un racconto opprimente oppressivo o da una forza della come dire del potere però io chiedo alla comicità e alla satira di darmi un'altra prospettiva con cui leggerlo poi dipende se io sono in grado di leggerlo dipende se io ho voglia di farlo ma non devo dare a colui che mi produce satira la chiave per darmi la interpretazione e lì devo dare la possibilità di esercitare il diritto di critica che è una cosa diversa non so se è chiaro cosa voglio dire volevo scusi volevo avvisare che stanno arrivando delle domande come se piovesse quindi così si sa regolare con le risposte va bene la seconda domanda la seconda domanda accanto alla satira a Petrolini chiede l'arbitrarietà algoritmica di metterli di ricerca questa è un'altra bellissima domanda e cioè la mia la mia esperienza mi dice tu fai una domanda e l'algoritmo si dà un ordine di risposte ok prova a invertire o a modificare leggermente i termini della domanda che fai ti arriverà un altro ordine di risposte nella tua intenzione c'è sempre la stessa indagine ma il fatto che ti arrivino perché l'algoritmo è molto veloce ma è stupido cioè è una risposta automatica quella che ti dà te la dà per come si compongono le cose che tu metti insieme ma non ti dice non ti dà ti dà una interpretazione del significato delle parole che usi al primo livello poi tu devi fare in modo che lo stesso tipo di domanda ma con altre parole tu la vai a combinare ti vedrai che ti verranno altre soluzioni ti verranno proposte altre fonti di nuovo non vuol dire che l'insieme di quelle fonti ti dice tutta la possibilità ma il fatto che ogni volta ti arrivino con un ordine diverso quelle fonti dipende da due dati primo dipende da come vengono fatti combinare due dipende da quante persone hanno chiesto quei dati in quell'ordine per cui la prima cosa che devi domandarti è a me arriva un ordine di cose quell'ordine quanto fra virgolette fascia di consenso mi esprime quanto senso comune mi propone non solamente delle risposte che mi dà ma esattamente dell'ordine di domande che ha ricevuto mi dice quante se io le so indagare se io semplicemente non mi soffermo a utilizzare le risposte che mi arrivano o a entrare dentro le aree di ricerca che quello mi propone quanti elementi io devo tenere presenti questo è importante non vuol dire che le risposte che io ho sono false di nuovo perché il fatto è il montaggio con cui le vado a mettere insieme non è solo il singolo componente per cui noi dobbiamo la prima cosa che dobbiamo fare è capire se io monto delle cose con delle componenti tra loro diverse ottengo lo stesso risultato o no ho lo stesso tipo di definizione o no quantomeno io devo tentare di avere due versioni delle cose e due montaggi delle cose mi costerà tempo però quella è una possibilità per non avere cioè se no noi andiamo interroghiamo per avere dei dati come andiamo dal farmacista c'ho un mal di testa il cachet c'ho un mal di piedi ti arriva lo stesso tipo di un guento uno solo ma le medicine che quello ha dietro le spalle sono tantissime perché quello ha scelto quelle due che mi ha proposto in base a che cosa per la frequenza di risposte che ha avuto per l'efficacia non lo sappiamo lì c'è un patto di fiducia perché io devo essere più come dire più diffidente su google e meno diffidente del farmacista non so se è chiaro però se volete la dico come una battuta però serve per dire quanto spesso nella nostra vita quotidiana quel tipo di dinamica si ripeta ci sono delle volte che noi ci facciamo delle domande su quel suo ripetersi e delle volte nemmeno ce le facciamo mai e invece forse vale la pena farsene anche su delle cose innocenti semplicemente per fare un esercizio se volete non quel che scopro la verità chissà quale grande verità se volete anche per divertimento almeno a me fa divertire poi dopo non so mi fermo allora vado avanti sono molte ecco forse a qualcosa ha già risposto adesso comunque io leggo semmai lei mi ferma quando lei non ci preoccupi troppe allora da Carla Crosatto scusi professore e dunque la satira che strumenti ha oggi poi da Antonella la satira non va rivolta solo un pubblico eletto ma può rischiare di essere fraintesa se non è compresa sempre in tema di satira che ne pensa di meme può gentilmente spiegarci perché secondo lei la satira di Charlie Hebdo non è efficace solo perché attacca la religione potrebbe fare un esempio di satira contemporanea un esempio della satira trasformata in modo per rendere simpatico il potere può essere il bagaglino o forse anche guzzanti quando faceva su questa le rispondo subito si immagino su questa le rispondo subito è chiunque dica bacioni oggi fa il satira tutta la satira mi sono spiegato chiunque dica bacioni è chiaro perché è un modo di sminuire l'avversario di ridicolizzarlo di sbeffeggiarlo non di contrastarlo di sbeffeggiarlo e per favore professore potrebbe approfondire circa il processo di conversione di una versione qui sta la faccenda e dunque cosa si può intendere per verità nel discorso storico se ogni discorso storico è inevitabilmente un'approssimazione alla verità dove sta la differenza con gli altri discorsi che comunque riguardano il passato nel cercare le fonti non sempre si tratta di disonestà ma può trattarsi di costrutti storico-culturali di cui non siamo consapevoli ci si può liberare da questi preconcetti come riconoscere e smontare le false notizie da cui siamo inondati ogni giorno visto che non abbiamo sempre il tempo e la pazienza necessaria per compiere questa operazione allora diciamo le domande sono tante esatto mi fermo ce ne sono altre allora intanto ho capito che questo argomento della satira va fortissimo allora diciamo così la satira per me è un meccanismo che può essere molto irriverente ma deve costringere te a pensare al contenuto che c'è in quel discorso e l'avversario o il satirato diciamo il satireggiato a modificare parte del suo discorso perché capisce che quello che sta dicendo non è efficace allora per rispondere a una domanda sprecisa ma penso che ne comprenda anche molte altre Charlie Hebdo non fa nessuna di queste due cose non colpisce l'avversario se non offendendolo ma li rafforza la sua opinione di convinzione non smonta la sua opinione la forza della satira nel settecento non era sbeffeggiare l'avversario era prendere il contenuto culturale dell'avversario metterlo sul tavolo e dimostrare che quel contenuto era ridicolo non funzionava non lavorava la mia domanda è tu vuoi criticare le fedi religiose vuoi criticare l'Islam benissimo fallo la mia domanda è quanto sai del Corano quanto sai delle discussioni interne al mondo islamico inteso teologico quanto sai dimostrare che lì dentro c'è contraddizione perché se lo sai fare lo puoi anche fare con la satira allora quella roba funziona ma se tu l'unica cosa che sai fare è l'uso del chador non serve assolutamente a niente anzi quello radicalizza ancora di più l'appartenenza perché ne fa un tema di orgoglio di identità non scava nelle componenti culturali dell'adesione e della convinzione semplicemente dice allarga la distanza di interlocuzione costringe anche i critici interni a quel mondo a schiacciarsi a difesa di quel mondo non serve è inutile è inefficace proprio ottiene il meccanismo opposto e parte dal presupposto che tu sei superiore a quella cultura mentre invece il meccanismo è che tu devi dimostrare perché quel meccanismo culturale non è capace di affrontare dei nodi dov'è che sbaglia dov'è che non funziona dov'è che c'è le sue contraddizioni però devi allora quel meccanismo lo devi sapere lo devi conoscere devi averlo studiato perché se non l'hai studiato tu sei semplicemente supponente non ottieni nessun risultato offendi fai della derisione ma non fai della satira c'è differenza tra derisione satira sarcasmo ironia non è la stessa roba la derisione parte da un presupposto che tu sei superiore e critichi qualcuno che ti fa solamente ridere perché lo ritieni un cretino o un incolto comunque qualcuno che tu devi educare perché comunque quello è sotto di te l'ironia è un modo per tirare fuori delle contraddizioni del discorso degli altri in maniera simpatica se volete quasi da salotto il sarcasmo vuol dire prendere il discorso di un altro e smontarlo e rovesciarlo completamente per dimostrarne l'inconsistenza vi do una prova di sarcasmo quando Marx scrive la sacra famiglia prende la filosofia di Fichte e rovescia completamente tutti i contenuti della filosofia di Fichte quel pezzo della sacra famiglia è sarcasmo cioè è dimostrazione dell'inconsistenza del pensare altrui attraverso le logiche di quel sistema prendendo il vocabolario di quel sistema e dimostrando la sua nullità dal punto di vista dei contenuti non perché ti fanno ridere no perché semplicemente pensi che siano veramente nulli e lo dimostri ma li prendi sul serio vuol dire che te l'hai letto l'hai studiato hai capito come funziona e dopo dimostri la sua inconsistenza non che te ti metti lì con la bacchetta col dito alzato e dici voi siete cretini perché questo non funziona non è nemmeno satira è supponenza e il motivo non so se riesco a essere chiaro è come noi costruiamo tutto il tema delle verità o non verità e lì per me conta tantissimo che oggi ci sono tre fonti fondamentali io credo per affrontare il discorso della storia contemporanea e dei fatti della storia contemporanea e cioè gran parte di ragazzini che voi vi trovate in classe ma anche delle persone che noi andiamo per strada sono figlie di due fenomeni sono intanto figlie di apparati culturali che non sono nella storia nazionale italiana spesso e quindi noi non li conosciamo noi dovremmo conoscerli se vogliamo capire con chi parliamo conoscere non vuol dire averli studiati ma sapere per esempio che le loro memorie di famiglia sono costruite su dei simboli su delle fiabe su delle narrazioni se volete su delle scale valoriali di sentimenti che non rientrano nella nostra storia quindi se noi vogliamo interloquire con quel tipo di immaginario un minimo dobbiamo saperlo perché sennò non parliamo con nessuno la seconda è la gran parte del mio immaginario io da ragazzino me la sono fatta con i telefilm il cinema cioè non l'ho fatta con i libri che ho letto l'ho fatta molto spesso memorizzando dei dialoghi di film che mi hanno impressionato potevano essere Giù la testa potevano essere alcuni film del western potevano essere Alberto Solti che vogliamo comunque fanno parte non derivano dal fatto di aver letto che ne so la fenomenologia dello spirito o Pirandello allora la mia domanda è gran parte dei ragazzini con cui noi ci troviamo davanti sono figli delle serie televisive sono figli di un fumetto sono figli fino a che noi non comprenderemo quale chiamiamolo fra virgolette non ci nutriremo anche noi del linguaggio che nutre loro che vuol dire dell'immaginario che nutre loro sarà un po' difficile catturarli e farli parlare perché farli parlare del falso magari ci può essere utile andando a vedere alcuni pezzi delle cose che loro stanno leggendo o che stanno vedendo utilizzando alcuni segmenti o frammenti di cose che è nel loro immaginario visuale se noi questo non ce l'abbiamo io penso questo sia difficile quindi così come il mio professore all'università era una persona che aveva vent'anni meno di me a un certo punto mi ha preso una parte e mi ha detto ma te in televisione cos'è che guardi cioè per cui io ti racconto il novecento ma per te il novecento cos'è? è stato il professore con cui poi mi sono laureato però in ogni caso perché con un minimo di confidenza ce l'avevo però era sintomo eravamo nel 1975 però è significativo che quello mi facesse questa domanda non mi ha detto quali libri di storia hai letto e perché questo problema non lo capisci partiva dall'opposto diceva perché il linguaggio che io ho ti arriva in quel modo e non arriva nel modo in cui io vorrei non so se è chiaro lo voglio dire io penso sia stato per me è stata una grande lezione anche di sforzo di comprensione noi il falso non è semplicemente se io li metto a posto le cose e faccio una narrazione anche quali sono gli elementi che io invece penso siano singolarmente veri che fanno parte della narrativa filmica televisiva che ne so di un serial che io vedo su un pc e con cui io apprendo alcune regole fondamentali come dire del conflitto bene e male per dirne una di come è la raffigurazione del bene e del male come quelli si coimplicano che di cos'è un mito narrativo non so se è chiaro cosa voglio dire almeno spero di sì insomma non so se ho risposto a un gruppo di domande perché risponderle a tutte credo sia impossibile però allora ci sono ancora una decina di domande io credo che tutte queste domande siano il frutto dell'interesse suscitato dal professore tanto grazie grazie a noi vuol dire che perlomeno nessuno si è addormentato vedrà che domande non si rilassi e quindi forse dovremo sacrificare il laboratorio io penso che siete tutti d'accordo in questo ditemi voi se volete risorna anche un'altra volta perché perché sono veramente tante e impegnative allora mi fa piacere che lei abbia citato Fichte la fenomenologia dello spirito perché adesso c'è una piccola trattazione trattato filosofico che le pongo allora il suo ragionamento non può presentarsi tautologico nella misura in cui il congelamento della narrazione richiesto dalla critica per allargare il numero dei fattori in gioco deve poi alla fine condurre a una nuova scelta di fattori e dunque a un'ulteriore presentazione e narrazione così che alla fine non si esce dal prospettivismo e della malattia della conoscenza storica Nice insomma la procedura non è ultimamente autogiustificante sì poi difficoltà allora poi a proposito di archivi come specchio o non della realtà e del caso de Felice l'archivia è risultato del modo in cui un soggetto produttore organizza o manipola la propria memoria ma è anche vero che c'è un margine di involontarietà ad esempio non si può controllare le risposte che arrivano e i soggetti esterni con cui corrisponde e comunque c'è un protocollo che va avanti per questo un archivio compresa una segreteria particolare resta la fonte magari non certa ma più vicina alla verità o no questo è un grido di abbiamo sprecato tanti anni in archivio allora poi il dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo può essere definita satira bisognerebbe sottolineare che lo sbeffeggio antislamico di Charlie Hebdo ha una sua precisa radice nella polemica antireligiosa di una certa parte della cultura francese ricordiamoci anche le vignette satiriche sulla trinità cristiana per ora sono finite allora vediamo un po' se ho memorizzato tutto partiamo dalla costruzione del racconto mi sembra che il primo nucleo di domanda sia sulle cause su come si allora dipende io per me io parto da un presupposto che in storia non esiste l'ultima parola ma esiste la penultima parola quindi qualsiasi ricostruzione io faccia di contorno di contesto di evento di storia si scontra con due dati inoppugnabili non c'è nessun storico che abbia visto tutte le fonti uno storico a un certo punto decide che le fonti che ha visto sono sufficienti per arrivare a una conclusione e quelle fonti decide di utilizzarle con un ordine che non è l'ordine in cui lo ha trovate ma è l'ordine con cui lui vuol costruire il senso complessivo della scena e delle considerazioni che vuol proporre per cui se è vero che qualsiasi costruzione di evento storico io posso fare e sta in piedi è anche vero che io non posso scrivere 25 in 25 versioni non posso dire che la battaglia di Waterloo ha avuto 25 esiti diversi ne ha avuto uno solo ma il problema è come io descrivo a partire da che cosa io la descrivo perché il problema è cosa mi interessa mentre la descrivo tirar fuori quindi in quel racconto dove c'è in quella ricostruzione dove c'è un dato oggettivo quello che non deve essere mai perso di vista è che la narrazione io propongo è lo sguardo soggettivo che io ho su quel dato perché se io perdo di vista questo punto e invece assumo il fatto che quello che io racconto è l'oggettività e per me questo è il difetto fondamentale della scrittura di Renzo De Felice e dei suoi allievi allora noi spacciamo un racconto di storia come se fosse la fotocopia della realtà mentre un libro di storia non è la fotocopia della realtà per un semplice motivo che se io pensassi che un libro di storia è la fotocopia della realtà abbiamo smesso di scrivere libri di storia semplicemente non c'è più bisogno di farli basta scriverne uno allora io capisco che come dire che non è semplice accogliere questo tipo di discorso perché vuol dire che vuol dire sapere che quello che io ho studiato ciascuno di noi ha studiato nelle versioni in cui l'ha studiato deve fare i conti con il complesso della costruzione della scena che è stata fornita non vuol dire che cambia la storia ma cambiano le domande che io mi faccio dentro un evento storico l'importanza che io do a dei fattori piuttosto che altri guardate Giulio Cesare non è che vive muore lo stesso da 23 pugnalate ma il problema è come io lo vado a studiare per la scena a chi do la voce quali cause o fattori voglio mettere in discussione se volete se fosse un film in quale punto io vado a mettere la macchina da presa la scena è sempre la stessa ma è come la guardo che cambia e il fatto che cambi da come la guardo non vuol dire che cambia l'esito della scena ma cambia l'appropriazione della scena a parte mia questo sì che è fondamentale per cui esiste una soggettività dello storico che non vuol dire che io racconti i fatti come mi pare ma vuol dire che io do un ordine gerarchico ai fatti a seconda del progetto di indagine che io ho e che devo dichiarare all'inizio lo stesso per cui all'inizio ho detto guardate io voglio arrivare lì ma se voglio sapere la maggior parte della scrittura e della storia gli storici non dichiarano dove vogliono arrivare se non hanno l'ultima pagina io penso che sia un grande difetto un grande errore perché come diceva Lambert leggere è un contratto tra te che scrivi e io che ti leggo e io devo sapere sulla base di che cosa sto firmando un contratto non lo posso sapere all'ultimo rigo perché io non sono disposto a lettore a spersonalizzarmi dentro di te io devo essere capace di leggere una cosa che tu hai scritto e di farmi delle domande mentre la leggo di fare a te le mie domande e allo stesso tempo di fare a me le domande che suscita il tipo di narrazione che te mi stai proponendo e l'ordine dei documenti che tu stai scegliendo se io non ho questa percezione vuol dire che io che mi sto proponendo rispetto a quel testo come fossi davanti a un libro di fiabe o l'accetto la fiaba o non l'accetto fine non so se è chiaro cosa voglio dire quali sono le altre domande? mi sono perso comincio un'ultima osservazione che ha fatto uno per me è stato importantissimo leggere Foucault ecco e poi c'era quella che riguardava lo sbeffeggio anti-islamico di Charlie allora lo sbeffeggio diciamo così lo sbeffeggio antireligioso perché questo riguarda solamente appunto l'islam riguarda anche altre satira rispetto ad altri apparati religiosi nasce dal fatto secondo me che una parte del pensiero filosofico sociale politico del novecento pensa che la religione sia un residuo del tempo premoderno cioè sia un rimasuglio del passato e tu che sei moderno diciamo sostanzialmente dici che noia perché non si fanno da una parte e non comprendi che la religione non è semplicemente pratica nel novecento la religione è stato un processo di riflessione di individui e collettività sulla loro identità sul fatto che la politica gli aveva promesso qualcosa e hanno avuto insoddisfazione rispetto alla politica che sono andati a cercarsi il vero o il presunto vero da un'altra parte quindi tu se vuoi rispondere a quel tipo di proposta convinzione contenuto tu devi conoscerlo quel linguaggio non ti è più sufficiente Voltaire per risponderli perché la risposta di Voltaire è la risposta agli uomini di religione del settecento non è la risposta alle ansie ai problemi alle convinzioni di uomini e donne della fine del ventesimo secolo che sono l'effetto di un ciclo culturale che nasce dal Voltaire e due secoli dopo di Voltaire non sa che farsene questo è il punto cioè per cui il a cominciare dal fatto che noi abbiamo introdettato la parola laico come se fosse antireligioso mentre invece significa che noi abbiamo una dimensione in cui immettiamo delle variabili di analisi che non sono il codice religioso dentro il codice religioso tu puoi essere anche un credente ma essere un credente con tantissime domande e non solo con delle risposte e la qualità del tuo credo in una forma non è uguale a quella dell'altra forma perché dipende con quale stato d'animo ti poni rispetto alla tua credenza e al modo in cui viene criticata la tua credenza la satira è sicuramente uno strumento di ragionamento però deve domandarsi anche quante competenze non quanta quanta legittimità ha ma quanto bagaglio culturale ha dietro di sé per è un codice la satira non è un contenuto è come dire una grammatica non è un vocabolario è un modo di costruire un ragionamento ma poi nel ragionamento ci devo avere dei contenuti culturali se io quei contenuti culturali non ce l'ho o non sono adeguati il risultato sarà disastroso ed è il motivo per cui secondo me noi confondiamo la parola satira con la parola derisione cioè è un rapporto di supponenza rispetto a qualcun altro che lo fa diventare insopportabile e che soprattutto non mi comunica nessun contenuto se non alla fine se dovessi guardare per davvero la paura di quello che sto criticando il timore che quella roba è cioè è come se io avessi detto mi faccio un esempio su una cosa diversa dal religioso è come se nel 1945 all'interno dell'opinione pubblica statunitense a guerra ancora in corso tu avessi deriso i kamikaze e non avessi fatto una politica per capire dove stava quell'elemento dove tu dovevi accelerare la fine della guerra non perché quelli ti procuravano dei danni ma perché quello era il sintomo della disegrazione sociale culturale del tuo nemico e se tu volevi pensare futuro anche in un rapporto dove andavi a fare fra virgolette la resa del tuo nemico il giorno dopo tu quel paese dovevi aiutarla a ricostruirlo e quella non era la soluzione per poterlo dare una chance di ricostruzione allora se chi in quel momento all'interno della cultura statunitense nessuno ha pensato di deridire kamikaze non solamente perché quello significava tanti morti propri ma perché era un indice enorme problema da dover governare allora io una cosa che mi ha sempre colpito in chi esercita la satira e la rivolge nei confronti dei mondi religiosi fondamentalisti è non comprendere qual è a che tipo di che tipo di risposta è il fondamentalismo a quale tipo di domanda risponde perché è quella che tu devi andare a colpire se tu non colpisci quella non anche con la satira se tu non colpisci quella tu non non avrai nessun effetto in ciò che fai la tua è semplicemente una reazione pigra come dire che non si fa domande che pensa di averci già le risposte che si accontenta di quello che sa e io la trovo come dire in un qualche modo molto deludente non mi fa pensare mi dice semplicemente che quello che io so già è sufficiente non lo è perché quel fenomeno acquista ancora più potere acquista ancora più capacità magnetica carismatica e quindi vuol dire che quella risposta così com'è è fondamentalmente sbagliata è inefficace mi dispiace dirlo perché poi ci sono anche dei morti non è che a Charlie Hebdo come dire è una risata no però se io dovessi fare un'analisi devo dire che quel tipo di linguaggio non è adeguato al tipo di problema è sbagliato non so se ora mi sono spiegato a me spero di sì certo a questo punto faccio le ultime due e poi basta sempre sulla satira se il grande dittatore era satira e poi c'è la perdita nel ventunesimo secolo di ogni possibilità per i governi di configurarsi con un ordine simbolico depauperato dalla tecnica determina la trasformazione della satira a loro rivolta in effimero spettacolo mamma mia madonna allora diciamo così non so se il grande dittatore è satira diciamo che è una grande allegoria ironica secondo me più che satirica cioè c'è dei momenti anche di ironia di satira sicuramente magari in alcuni punti in altri punti gioca sull'equivoco cioè ci sono tanti linguaggi dentro se volete su quello che Pirandello chiamava cos'era l'umorismo in teatro ci sono tanti ora io non ne so tantissimo cioè quindi vi cito quello di cui ho reminiscenza di letture che ho fatto non mi sono occupato di teorie del cinema però per cui esiste anche un canone e un codice cinematografico in cui ti alcune cose le puoi dire in un certo modo a seconda di come le coltruisci detto questo era anche poteva essere visto in due modi come cosa ci rimane dopo ed è il famoso discorso all'umanità che Charlie Chaplin fa quasi alla fine o se volete come una realtà era interpretabile in tanti modi a seconda di come tu la vedevi perché questo c'è anche dentro quel doppio rappresentato dopodiché il meccanismo della satira o di quel film con ironia era quello che ti consentiva nella maniera più diretta di tirarlo fuori è lo stesso per cui con il senso del drammatico come dire riflette e fa riflettere Edoardo De Filippo in Napoli Milionaria cioè tu alla fine Edoardo De Filippo in Napoli Milionaria per esempio perché tu sia disposto ad accogliere quello che dici devi essere disposto a ragionare perché tutto il meccanismo del protagonista di Napoli Milionaria soprattutto dell'ultimo atto di Napoli Milionaria è come io ti faccio una controverità rispetto a quello che tu mi hai raccontato finora ti dimostro che io ho capito tutto di te però ti rovescio completamente quello che te mi hai raccontato dopodiché bisogna vedere quanti avevano la pazienza di stare fino in fondo nessuno mi ha mai raccontato quante persone si sono alzate dal teatro alla prima quando hanno visto quello spettacolo per esempio sarebbe interessante saperlo se qualcuno si è alzato quanti hanno applaudito chi ha applaudito non lo sappiamo però quello è un dato su cui mi piacerebbe ci fossero dei dati su cui riflettere diciamo così su qual è un'altra domanda mi sono perso mi deve scusare Claudio mi spiace sì sì la perdita nel ventunesimo secolo di ogni possibilità per i governi di configurarsi con un ordine simbolico determina la trasformazione da satire in effimero spettacolo ma questo su questo ho dei problemi perché io penso che oggi la satira uno dei meccanismi molto problematici è che la satira è diventata un linguaggio del potere non è diventato un linguaggio dell'antipotere e lo dico perché appunto è il punto da cui sono partito dall'inizio del motivo per cui sono piuttosto incerto sul linguaggio della satira che dice che avviene così sia perché appunto la satira è diventata gergo per cui appunto tu quello di Charlie Hebdo non funziona e non funziona perché ha perso la sua forza di interrogarsi sulle componenti che deve criticare gli basta pensa che sia sufficiente guardare il costume esteriore ha confuso Jonathan Swift nell'analisi del saggio sui bambini in Irlanda semplicemente confondendo il paradosso come se fosse la macchina di ironia mentre c'è il paradosso e l'effetto della macchina di ironia quindi tu parti da un ragionamento non è semplicemente se ti fai il paradosso è risolto il problema però il paradosso e l'esposizione paradossale è quella che è diventata il linguaggio del modo con cui il potere si fa simpatico con cui alla fine appunto si dice bacioni per essere chiari ok oppure ride di se stesso però in realtà nel momento in cui ridi di se stesso ti dice che lui non lo puoi criticare che è bravo che è esattamente l'opposto di quello che la macchina satirica ha pensato sempre che dovesse essere detta al potere doveva dire al potere sei un figlio di puttana non è bravo scusate il termine allora lì ci vedo oggi il fatto che la satira non è più quel linguaggio che chi sta sotto è capace di tirar sotto e lo dimostra il fatto che noi oggi al massimo possiamo concederci non delle strisce di fumetti ma al massimo delle vignette che sono simboliche della crisi LK non esisterà mai una striscia fatta di 7-8 vignetti di LK esisterà sempre una sola vignetta di LK e quella è la dimostrazione secondo me del fatto che lì perché ci sia satira ci deve essere un discorso complessivo ci deve essere semplicemente come dire l'esergo o la bustina del giorno ma che è invece un modo in cui io ti sintetizzo in un punto dove quello che dice il potere non mi convince dopodiché tu dovresti raccontare perché quello che ti dice il potere non funziona non semplicemente non ti convince noi oggi al massimo possiamo esprimere ciò che non ti convince che è uno dei modi in cui testimoniamo del nostro essere resistenti al discorso diffuso ma che non dice ancora non ci dà una tecnica non ci dà uno strumentario per analizzare ci dice semplicemente dove noi gli fidiamo come dire dove ci tratteniamo dove non vogliamo essere succubi di potere ma non ci dà un'arma ma per fare un discorso di contropotere ci dice semplicemente quella è la soglia che non vogliamo superare per essere fra virgolette proni ma non ci dà un vocabolario per essere indipendenti o di pensare liberi adesso qualcuno sta chiedendo anche bibliografia sulla satira strumenti allora guardate vi voglio dire una cosa tutto quello che avevo raccontato sulla satira no no intanto non c'è nessun noi in fondazione Feltrinelli lo dico noi perché io è vero che sono nato in pensione dopodiché come capitano tutte le strutture tu esci da una porta appena arrivi al di là della porta c'è un'altra porta che si apre e dice no aspetta rientra dentro fai un altro giro per cui mi sono fatto un contratto di consulenza sulla parte come dire editoriale di produzione della fondazione Feltrinelli allora tra le varie cose che sono in programma in questo anno balordo che la cui datazione di inaugurazione dovrebbe essere a fine marzo noi dovremmo fare mettere in piedi una mostra sulla satira tra settecento e oggi dove una parte della satira sarà anche tirar fuori per esempio appunto la satira fascista la satira nazista la satira stalinista perché la satira non è solamente una roba dal basso verso l'alto alle volte è appunto anche dall'alto verso i dominati o gli sconfitti diciamo quindi in qualche modo è un altro linguaggio dove una delle cose che ancora sono in forza e se tireremo fuori delle cose e faremo delle cose performative di teatro se faremo delle cose con dei bambini anche perché non so se nessuno di voi magari sarà venuto mai in Fondazione Fertinelli nella nuova sede che c'è ora però c'è un enorme spazio come se fosse un giardino che quindi puoi usare anche per fare della scuola d'estate con tantissime possibilità diciamo c'è una sala polifunzionale dentro a questo palazzo bellissimo io lo considero bellissimo poi magari forse voi lo vedete e vi spaventate che c'è dove c'è una sala con 220 posti a sedere che oggi sono diventati 70 però con delle parti con palcoscenico teatrale un modo di fare anche spettacolo musica cioè in cui vorremmo fare adottare tanti linguaggi tanti codici diciamo quindi non solamente le vignette o il posseduto di patrimonio librario ma di fare anche delle unità didattiche dei kit didattici anche scaricabili a distanza di questa roba allora magari una volta finito qua io vi dico chi è che si occupa in fondazione Feltrinelli dell'allestimento di questa roba di questa mostra di modo che potete contattare avere tutti i materiali didattici che verranno prodotti alle volte degli ebook che verranno prodotti di materiali e anche di scelta di immagini non so se è più stato chiaro però ecco diciamo così stiamo ancora lavorando perché una parte delle cose che vi ho detto sono il laboratorio di discussione che abbiamo messo in piedi nell'ultimo mese e mezzo per costruire questa mostra sulla satira grazie professore grazie a voi spero non avervi annoiato mettiamola così direi di no dal numero di domande che ci ha costretto piacevolmente a stravolgere il nostro programma direi che è stato un incontro davvero piacevole grazie io mi sono divertito spero anche voi senz'altro Stefania non so se ci siano altre domande credo che siamo alla fine no ci sono ringraziamenti grazie a voi tanto davvero tantissimo grazie 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 naturalmente noi restiamo debitori vi dobbiamo ancora un'attività didattica che era proprio incentrata sul tema delle fake news abbiamo ritenuto da un rapido confronto tra di noi considerando l'alto numero di domande che arrivavano abbiamo ritenuto di soprassedere vediamo se riusciamo a recuperarlo in un'altra in un'altra circostanza in un altro momento credo però che questo incontro così ricco e stimolante sia stato senz'altro utile e credo che ci possa aiutare anche a fini didattici per porre determinate questioni in determinati modi con i nostri studenti non credo che resti molto da dire se non che ci diamo appuntamento per la settimana prossima il secondo appuntamento vi ricordo il 25 di febbraio alle ore giovedì 25 febbraio alle ore 16 con il professor Paolo Pezzino docente dell'università di Pisa presidente dell'istituto nazionale a cui afferiscono i nostri istituti della resistenza e parleremo delle banche dati che l'istituto nazionale in questi ultimi anni ha realizzato e come possono essere utilizzati come risorsa sia per la public history sia pure anche per fini didattici a questo punto direi che possiamo salutarci e vi diamo appuntamento dunque alla prossima settimana continuano i ringraziamenti per il professore grazie grazie e complimenti insomma tutti molti se perlomeno avete avuto la sensazione di passare un buon pomeriggio mi fa piacere questo senz'altro va bene va bene ottimo grazie mille professore buonasera grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti